Cari lettori e lettrici la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo biografico che affronta profondamente il tema dell'identità personale, dell'accettazione di sé, del coraggio necessario per affrontare i propri limiti e per abbracciare un cambiamento radicale nella propria vita. La trama del libro nudo dello scrittore Andrea Piccariello pubblicato dalla casa editrice saggese, è la seguente. Cosa si nasconde sotto i vestiti delle persone? Cosa ci rende nudi per davvero? Come si fa a trovare il coraggio di porsi davanti allo specchio, senza alcun filtro e sovrastruttura, e riuscire a riconoscersi? Sono le domande che si pone Andrea, seduto al solito bar del centro insieme a Manuel, uno dei suoi più cari amici. Annegato nel caffè macchiato, sente sorgere all'improvviso l'impulso di cambiare la propria vita per mettersi alla ricerca di sé stesso. Nudo è un romanzo autobiografico che racconta nel dettaglio il percorso di chirurgia bariatrica intrapreso da Andrea, partendo dalla prima visita con il chirurgo, passando per la psicanalisi e la rieducazione alimentare, fino all'intervento e ai primi passi nella sua nuova vita. A motivarlo, il desiderio di lasciare indietro un corpo che non sia mai del tutto legato all'anima che racchiude, schiacciata sotto il peso di 140 chili. Un viaggio nella mente del protagonista affetto da obesità patologica, che passa anche e soprattutto attraverso le segretissime note sul suo cellulare, valvola di sfogo in cui per anni ha racchiuso tutta la rabbia, l'angoscia e il rammarico verso il proprio aspetto. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterari e iscriviti al canale.